Quindi se noi fossimo amici e io fossi incinta, lei mi consiglierebbe di vaccinarmi oppure no? Non ho capito. Senta, guardi, io le consiglierei di farla subito dopo la gravidanza. Ah, quindi lei mi sta dicendo che non mi consiglierebbe di farla in gravidanza. No, non gliela consiglierei, perché non ci stanno abbastanza studi su quelli che sono gli effetti. Guardi, le spiego, in gravidanza non si danno vaccini vivi, va bene? Tutti i vaccini attenuati non si danno in gravidanza, però in gravidanza si danno vaccini come virus uccisi o proteine, va bene? Ora, dopo la quarta settimana noi sappiamo che c'è scambio di materiale genetico sia dal feto verso la madre che dalla madre verso il feto. Quindi significa che la placenta non è permeabile al materiale genetico. Quindi non ci stanno abbastanza dati per verificare che effettivamente il vaccino non passa alla placenta. Punto.